e allora ragazzi un po che non vi aggiorno per quanto riguarda la vasca da mille litri questa è come per il momento ora ho appena inserito dei gamberetti che ovviamente stanno cercando ancora di ambientarsi e sono uno spettacolo a breve come vedete ho inserito anche i gamberi bianchi oltre a quelli rossi ora a breve cercherò di inserire altri pesci per il momento c'è soltanto l'antias che è lì ormai si è ambientato proprio alla perfezione ah e poi ho inserito un altro pesciolino eccolo qua proprio microscopico e vediamo quanto durerà perché con tutti questi predatori i gamberi faranno festa prima o poi va bene vi saluto ragazzi al prossimo video